mi presento sono laura tagliaferri comune di bologna ufficio giovani benvenuti a questo primo incontro del ciclo bologna andata e ritorno organizzato dall'informa giovani uno dei servizi del comune di bologna dell'ufficio giovani è un ciclo fatto di quattro incontri tutti dedicati alla mobilità all'estero e abbiamo due incontri online in particolare questo è l'ultimo e ne abbiamo due invece quelli centrali che sono in presenza e allora mi soffermo una tra poco sul questo incontro l'incontro di stasera ma ci tengo a dirvi che il 9 maggio il 16 maggio avremo due incontri curati dall'associazione scambio europei che è un'associazione che collabora con l'ufficio giovane già da qualche anno perché cura uno sportello gratuito rivolto ai giovani under 35 sulla mobilità internazionale e sono due appuntamenti che ci presenteranno progetti di volontariato scambi culturali tirocini e percorsi professionali finanziati dall'unione europea e il secondo appuntamento in particolare quello del 16 maggio sarà sul corpo europeo di solidarietà sempre dell'unione europea che offre opportunità di volontariato in progetti di aiuto a comunità a popolazioni sia in europa che nel mondo l'ultimo incontro che invece si svolgerà il 23 maggio è un qualcosa di particolare perché sarà diciamo un un incontro diciamo così di accoglienza invece di persone all'estero dall'estero verso l'emilia romagna si chiama inter che sta per international talent emilia romagna è un programma nuovissimo della regione emilia romagna studiato proprio per attrarre talenti internazionale internazionali nella nostra regione e diciamo riportare quei giovani o anche non giovani emiliano romagnoli che invece si sono trasferiti all'estero che invece potrebbero rientrare nella nostra regione ma adesso due parole prima di dare la parola ai nostri ragazzi e a federico bastiani che ci introdurrà boosting futures boosting future è questa piattaforma geniale che è stata ideata da due ragazzi intraprendenti alessandro e agostino studiata per incoraggiare facilitare quei giovani che vogliono studiare all'estero che vogliono fare l'università all'estero e sono quindi due ragazzi facilitatori che vogliono dare una mano orientare e rendersi disponibili proprio per informare tutti coloro che vogliono realizzare questo sogno di fare l'università all'estero abbiamo federico bastiani che ce li ha fatti conoscere me li ha fatti conoscere attraverso un articolo che ha pubblicato soltanto un mese fa sul magazine 110 che è un articolo appunto dedicato a questa piattaforma e dopo partiamo con la presentazione tutto quello che sentirete stasera nei prossimi incontri viene registrato e quindi lo potete ritrovare dopo un paio di giorni dalla presentazione su flegiovani.it che è il portale dell'informa giovani e sui nostri social se volete potete anche iscrivervi alla nostra newsletter proprio andando a cliccare sul nostro portale e quindi potrete rimanere aggiornati sui nostri incontri i nostri eventi e insomma sulle attività che portiamo avanti quotidianamente grazie e buon webinar allora ringrazio laura per l'introduzione io sono federico bastiani sono un giornalista e spesso ho la fortuna di incontrare persone interessanti venire a conoscenza di idee geniale start up mi occupo di innovazione principalmente e sono venuto a conoscenza del di un progetto di due ragazzi alessandro e agostino che sono qui con noi stasera e mi sono occupato del loro progetto di boost in future che ho trovato diciamo subito interessante perché direi un'idea semplice ma innovativa allo stesso tempo motivare i ragazzi coetanei di alessandro e agostino a studiare all'estero come esperienza di vita prima di tutto e poi per avere anche delle opportunità in generale penso che sia un progetto molto importante io per primo quando ho deciso di studiare all'università non mi passò neanche nella mente per la mente di studiare all'estero no è un conto sono i master post graduate che si fanno dopo l'università altro è invece decidere a 16 anni di voler intraprendere un percorso all'estero non solo un anno quindi ci tengo a precisare non solo un erasmus un periodo ma proprio tutto il percorso accademico quindi come fare come muoversi quali sono i primi passi da compiere so che esistono delle società privati counselor che fa che forniscono queste informazioni pratiche a pagamento ovviamente e che indirizzano e guidano su come su come muoversi in questi in questi ambiti quindi trovare un progetto così innovativo e utile dove invece fossero dei ragazzi a condividere la propria esperienza ed offrire una gratuitamente una sorta di guida fra virgolette mi è sembrato un progetto molto interessante appunto ne ho voluto parlare a laura che ha raccolto subito l'invito quindi niente sono curioso anch'io di ascoltare alessandro e agostino per capire meglio come funziona la piattaforma quello che faranno sarà una presentazione tipo di quello che di solito organizzano nelle scuole loro hanno già presentato il progetto in alcune scuole in argentina in messico in italia per ora solo una scuola milano un liceo e il loro obiettivo è quello insomma di riuscire ad organizzare più incontri possibili nelle scuole ma non solo per raggiungere ragazzi e diffondere la piattaforma insomma questo è a questo punto direi che possiamo iniziare come ha detto laura se poi avete domande le potete aggiungere in chat prego ragazzi allora buonasera a tutti e benvenuti alla nostra presentazione su quello che chiamiamo early college awareness come come ha detto laura anche alla fine della sessione faremo un chione quindi se avete domande le risponderemo alla fine e quindi prima iniziare no mi sembra importante a chiedere cos'è early college awareness perché per noi è l'importanza di iniziare a prepararsi da presto per per l'università per avere le migliori possibilità di entrare alle migliori università e però poi chi siamo noi noi siamo boosting futures un'organizzazione con l'obiettivo principale di aiutare i studenti a capire i benefici di un'educazione post secondaria e a fare tutto quello che possiamo per prepararli ad applicare alle migliori università e conseguentemente aumentare le loro possibilità di trovare lavori che possano cambiare la vita non solo a loro ma anche alle loro famiglie noi veramente crediamo che la felicità sia che la felicità si sia trovata superando le difficoltà nella vita e l'imparare è chiave per questo perché aiutare i studenti a vedere l'importanza dell'imparare contribuisce a costruire le idee che sviluppano per se stessi e poi sono le idee che costruiscono il futuro per le prossime generazioni e adesso che ci siamo già presentati come gruppo ci presentiamo velocemente come individui io sono Agostino Rocca ho 16 anni sono nato e cresciuto in Argentina ma adesso vivo a Roma e ho stato in Argentina Brasile Ingliterra Italia e parlo spagnolo inglese italiano francese un po di cinese portoghese e ritengo di essere giocatore di tennis però il vero atleta è Alessandro che adesso si presenterà ecco buonasera a tutti io sono Alessandro sono nato a Firenze ma ho vissuto tutta la mia vita a Roma dove infatti ho conosciuto Agostino e la mia passione per lo sport è lo sci avendo gareggiato due volte nelle nazionali italiane e riguardo alla scuola adoro le materie scientifiche specialmente la fisica e la matematica e tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia come la robotica mi interessa molto e mi appassiona dato che vi parleremo tanto anche sui benefici nello studio fuori dall'Italia come ha detto Federico all'estero vi volevamo anche raccontare un po sulle nostre esperienze all'estero quindi un paio di anni fa io sono andato in Inghilterra a fare un anno di boarding school a Kent vicino a Londra che lo vedete indicato nella mappa alla scuola Wellesley House e anche se ero abbastanza piccolo ho imparato tantissime cose mi ha sposto alla diversità prima di tutto permettendomi di imparare di diverse esperienze e culture e poi mi ha dato una perspettiva globale e perché noi viviamo in un mondo globalizzato che anche se adesso c'è una tendenza per la deglobalizzazione noi crediamo che veramente nel futuro potremmo contribuire ad avere un mondo ancora più unito un mondo ancora più pacifico e tutto questo è aiutato da quello che abbiamo imparato all'estero con questa perspettiva globalizzata e io invece ormai almeno un anno fa avevo voglia di cambiare scoprire qualcosa di nuovo perché mi sentivo che nella mia vecchia scuola a Roma avevo quasi raggiunto il potenziale quindi volevo cercare un ambiente che mi poteva motivare di più allora ho fatto domanda a due scuole e alla fine ho deciso Seven Oaks scuolto e risiedo adesso e cambiando varie volte le scuole ho capito che per me la cosa più importante in una scuola sono gli studenti e in scuola internazionale come in quella che sono adesso non posso che chiedere di meglio noi siamo un gruppo di studenti di tutto il mondo sparsi in Sud America Europa Asia e la cosa che ci raggruppa quello che abbiamo in comune è che siamo tutti molto motivati e anche abbastanza intelligenti trovo che l'ambiente in questa scuola sia molto bello e mi ha spinto a dare il massimo e adesso vi spiego perché perché io vivo con persone come un mio amico che si chiama Ziao e sono comunque simpatiche e socievoli però hanno già studiato argomenti di matematica e fisica che si studiano soltanto all'università quindi allora io mi sono chiesto e perché non sono come loro e questo mi mi ha spinto a fare qualcosa in più a lavorare quell'ora in più e personalmente l'ho capito soltanto quando ero circondato da questi studenti e sicuramente non quando ero a Roma inoltre inoltre mi piace che tutti essendo cresciuti in un ambiente molto diverso dalla Colombia alla Germania alla Malaysia abbiamo una visione diversa su quasi tutto quindi il cibo i metodi di studio a come si socializza anche quindi mi ha dato un'apertura globale sul nostro mondo che credo sia molto importante e poi rispetto a quando ero a Roma la scuola offre una grande varietà di corsi migliori il mio preferito è la robotica però ci sono anche approfondimenti sulla fisica sulla matematica sull'ingegneria adesso vi farò l'esempio della robotica perché io sono appena tornato ieri da una competizione di robotica in America noi eravamo un gruppo di 25 studenti che abbiamo costruito un robot da zero che doveva prendere dei cubi e coni quindi abbastanza facile portarli dall'altra parte del campo però questo l'abbiamo costruito da zero e questa competizione voglio farvi capire che non sarebbe stata possibile eh se fossi eh a Roma perché eh gli studenti non hanno un'esperienza con il CAD quindi il disegno 3D ehm e tutta l'esperienza della costruzione la elettronica la programmazione e neanch'io sapevo molto però grazie a questi compagni ho imparato eh molto e cosa più importante mi sono divertito molto e infine ovviamente volevo dire che i miei professori sono ottimi e per farvelo capire è la prima volta che non mi lamento mai dei professori però perché studiare all'estero ehm personalmente da quando sono arrivato in Italia ho notato che c'è uno stigma negativo verso lo studio all'estero e questo è qualcosa che mi sembra completamente sbagliato ed è una delle cose che ci ha spinto a creare questa organizzazione Boosting Futures e per noi un'educazione internazionale è una grande opportunità perché ti prepara per la vita in due campi socialmente ed economicamente socialmente è un'opportunità per fare nuove amicizie che si possono mantenere per tutta la vita e come come ho detto prima ti esprime ti espone a una comunità diversa che ti apre la mente altre culture altre credenze e poi tutti i professori come ha detto Alessandro è una perspetta hanno una prospettiva globale che aiuta a creare un punto di vista internazionale dei studenti e poi la parte più importante secondo me è che ti lascia con una rete mondiale di compagni un network che si aiutano a vicenda per il resto della loro delle loro vite per esempio mia madre ha avuto la fortuna di studiare a Harvard e oggi ha un gruppo di laureati principalmente latinoamericani come lei che lavorano insieme con diversi progetti tipo conferenze su temi di interesse e lavori per beneficenza per le comunità a cui appartengono e questo è una è veramente affascinante poi economicamente ti dà maggiori possibilità di occupazione perché ti puoi adattare facilmente a qualsiasi luogo di lavoro e conseguentemente puoi trovare lavori migliori ma dov'è che consigliamo studiare noi? Quindi i Stati Uniti sono senza dubbio la destinazione più popolare quando si tratta dello studio all'estero e lo è da decenni però questo è perché ha istituzioni prestigiose che dominano le classifiche universitarie globali attirando studenti da tutto il mondo poi ci sono più di 5500 università con una varietà di programmi senza pari qualunque sia la tua vocazione interesse ci sarà sempre un programma per te inoltre la diversità è al centro dell'identità americana e il paese è veramente un mix di culture e razze quindi non importa da dove vieni sarai sempre accolto a braccia aperte un altro fattore che per noi è più importante è che quasi tutte le università americane offrono borse di studio o qualche tipo di aiuto finanziario questo è perfetto per i giovani che aspirano ad avere la migliore istruzione ma hanno ostacoli economici da superare e poi ultimamente i collegi americani offrono questa possibilità chiamata il labor alerts che quindi se non siete convinti su cosa volete studiare potete sempre cambiare la per esempio io che come alessandro sono interessato con ingegneria sto pensando di fare ingegneria meccanica però non sono del tutto sicuro quindi andando in america per esempio poi se non mi trovo bene con ingegneria meccanica posso sempre cambiare e per esempio fare ingegneria aerospaziale e poi un'ultima cosa l'applicazione qua in america si fa attraverso il common app che è questo sistema dove puoi compilare tutte le domande generali e gli essays per quasi tutte le università americane ovviamente ogni università domande specifiche che non puoi fare in questo sistema generale però la maggior parte dell'applicazione che ci vuole normalmente tantissimo tempo viene fatta attraverso questo common app che ti risparmia tantissimo tempo poi ho parlato tanto degli stati uniti ma come ho detto ci sono anche tantissime altre buone azioni anche anche l'europa è molto buona con 2700 università più o meno e qua vedete una lista delle migliori università il regno unito generalmente viene considerato il migliore in europa perché lì le migliori sono secondo noi oxford cambridge imperial ucl king's college ma ci sono tantissime altre e poi tutte queste università sono molto ricercate e le applicazioni vengono fatte attraverso gli ucas invece del common app come negli stati uniti e questo sistema ti permette di applicare a cinque università alla volta e tra questi cinque noi consigliamo che due siano delle scelte ambiziose dove volete andare ma sapete che sarà molto difficile entrare quindi praticamente il vostro sogno il vostro dream university poi una che considerate un po più facile ma sempre molto buona e due dove siete abbastanza sicuri di essere accettati come il safety option come lo chiamano la e al contrario gli stati uniti qua prioritizzano l'approfondimento della vocazione invece dell'ampiezza dei corsi come liberal arts quindi se avete già un'idea specifica su cosa volete fare e siete convinti questo può essere anche meglio e poi in svizzera per esempio eth è quinta in europa e qua vedete anche dei esempi in olanda in francia in germania però un vantaggio generale di studiare in europa è la possibilità di viaggiare in molti paesi vicini che offre molte opportunità di arricchimento culturale e giusto per chiarire tutti i corsi menzionati qua sono inglesi quindi l'ostacolo linguistico con l'inglese non c'è e poi lo saprete molto bene anche voi e forse anche meglio di me che studiare in italia è comunque un'opzione prestigiosa come per esempio la bocconi il politecnico però ce ne sono tantissime anche a bologna e se decidete di fare questo percorso noi vi consigliamo di fare gli studi all'estero dopo come un master e allora noi che abbiamo dato una vaga idea delle migliori università e adesso tocca a voi di ricercare quale sarà il vostro sogno inizialmente vi consigliamo di guardare al sito ufficiale dell'università e anche il loro canale youtube infatti molti dei miei video consigliati sono sulle università di tutto il mondo poi poiché questi due hanno dati credibili e legittimi ma cosa di specifico dovete ricercare come prima cosa è molto semplicemente vedere se il vostro corso interessato è disponibile perché se questo non succede come per esempio non offre ingegneria aerospaziale la università si può scartare subito poi cosa trovo sia molto importante è il numero di studenti per ogni professore professore chiamato student to faculty ratio che ti può dare un'idea generale sul tipo di rapporto che avrai con i tuoi professori che può fare la differenza e ritornando a perché crediamo che le università americane come a stanford sono le migliori per ogni studente ci sono cinque o sei per ogni professore ci sono cinque o sei studenti e in generale le migliori università americane non superano i quindici studenti per professore garantendo un buon rapporto che crediamo sia molto importante continuando le cosiddette facilities sono per esempio i laboratori per una l'area scientifica le varie palestre o i campi per gli sport i teatri e ovviamente questo è in base al vostro interesse e dovete controllare se sono presenti e come consiglio all'università piace che dite che siete interessati di usare per esempio i laboratori o per esempio il loro eh nuovo teatro e poi è anche molto importante sapere cosa voi fareste dopo i compiti se c'è per esempio un corso che vi interessa come io eh il corso di di business o entrepreneurship e poi cosa si fa il weekend perché alla fine del giorno vi dovrà piacere la vita là siccome ci vivrete per tre o quattro anni e infine bisogna considerare dove eh uno studente vive se gli studenti affittano casi se vivono in dormitorio poi se vi piace la città vicino e in generale se volete eh andare in università in città o se vi piace essere un po' più fuori eh dalle città. E adesso eh introdurremo un po' dei costi e il costo principale ovviamente ehm è la retta che è varia tra i vari college ma può arrivare fino ai cinquanta mila euro eh o dollari l'anno però comunque l'alloggio per quattro anni diventa molto costoso e infine ci sono ehm costi aggiuntivi a cui dovete pensare eh pensare come tutti i vari libri un nuovo computer e anche il trasporto ma non vi abbiamo abbiamo detto questo non per spaventarvi eh ma Agostino vi spiegherà perché? Eh perché se ci sono problemi economici che ostacolano il percorso verso una migliore educazione ci sono sempre modi diversi di superarli. L'aiuto finanziario può essere in forma di prestiti studenteschi o borse di studio da parte dell'università o di altre istituzioni. I prestiti possono anche venire dalle banche o dalle ONG, organizzazioni non governative e queste ultime sono più favoreboli perché eh offrono tasse di interesse molto più basse e perché i termini di rimborso sono molto più lunghi. Poi ehm qua vi faccio vedere delle statistiche che che mostrano nella popolarità dell'aiuto finanziario eh tra i studenti d'America. 83.8% dei studenti universitari ricevono qualche tipo di aiuto finanziario. 58% ricevono un borse di studio. Poi la maggior parte dei studenti ehm prende un prestito ehm di prestito una media di 12.000 dollari dollari all'anno in America per esempio eh per pagarsi il college. Ovviamente questi prestiti devono essere rimborsati quindi eh pensiamo che sia sempre meglio tenere borse di studio o altri tipo di altri tipi di aiuto finanziario. Inoltre potete ehm vedere nel grafico a destra che la percentuale di studenti accettati ehm che ricevono aiuto finanziario sta aumentando. Quindi vi incoraggiamo veramente a provare a studiare all'estero e non pensare che questi problemi finanziari siano un ostacolo. Qui potete vedere alcune citazioni dai siti delle due migliori università al mondo secondo la classifica globale del nel 2022 che mirano a convincerci che i problemi finanziari non sono eh non sono un ostacolo allo studio. Howard per esempio offre offre borse di studio ehm complete agli studenti le cui famiglie hanno un reddito totale inferiore a 75 mila dollari all'anno. Invece la citazione che abbiamo scelto del dall'MIT riguarda il sistema delle ammissioni cieche o blind admissions come le chiamano loro. Che viene usato in molte delle migliori università. Ehm perché si tratta di un sistema che impedisce ehm qualsiasi preferenza verso gli studenti che non richiedono inito economico. Vi spiego un po' come funziona. Che quando tu compili l'applicazione per un'università hai la possibilità di chiedere l'aiuto finanziario e puoi scegliere sì o no. Grazie a questo sistema quando l'admissions officer cioè quello che gestisce l'applicazione all'università valuta un candidato non può vedere la risposta alla domanda di aiuto finanziario fino a quando non ha deciso se accettare lo studente o no. Questo quindi previene qualsiasi preferenza verso i studenti che dicono di no. Ehm allora ehm se siete stati ammessi a le università che sognavate come vi abbiamo appena spiegato probabilmente eh la università vi aiuterà economicamente attraverso aiuti finanziari di qualche tipo e vi spiegherò brevemente come funziona per farvi capire quanto le università vi vogliono aiutare. Allora l'aiuto finanziario è determinato attraverso un metodo chiamato Expected Family Contribution o EFC e questo è in base al reddito e al patrimonio della vostra famiglia. Quindi più basso è il vostro reddito meno la vostra famiglia deve pagare. E dato che tutti eh voi sarete degli studenti eh internazionali per fare domanda a questi aiuti finanziari dovete compilare il profilo eh CSS tramite il sito della College Board e questo modulo viene utilizzato per classificare come vi ho detto il vostro EFC su una scala da uno a dieci e le università lo utilizzeranno per decidere quanto del loro denaro riservato per le borse di studio andrà a ogni studente eh basato sulle esigenze personali. E a destra eh potete vedere la foto della College Board che ci dice che sblocca più di dieci miliardi di dollari in aiuto che ovviamente non dovranno essere ehm pagati per farvi vedere capire eh l'importanza di questi aiuti. E quindi se eh la tua famiglia soddisfa i requisiti eh potrebbe essere ancora più conveniente studiare negli Stati Uniti e a casa perché se davvero avete bisogno eh di un aiuto economico la università o questi fondi pagheranno non solo una borsa di studio completa su eh il costo del corso ma anche l'alloggio e tutti i vari costi come i terrasporti che avevo ehm eh parlato precedentemente. Ehm poi ehm noi raccomandiamo di eh comunque fare ricerca su altri fondi come noi abbiamo eh trovato Education USA che copre tutti i costi iniziali per fare eh la domanda a un corso di Laura negli Stati Uniti. E anche se questi costi eh arrivano fino ai duecentocinquanta eh dollari ehm questi fondi vi vogliono aiutare. E però ehm l'importante che noi vi vogliamo dire che per questi fondi eh dovete guardare le varie studenti eh scadenze che mi sa per il CSS profile era eh a febbraio per il penultimo anno di liceo. Quindi vi consigliamo di affrettarvi. Però come posso essere ammesso ad un'una ad un'università prestigiosa? Oggi eh con l'aumento della popolazione c'è sempre più competizione per i posti ehm nelle migliori università. quindi è fondamentale ehm per uno studente distinguersi. Fin dalle medie ci sono molte cose che mh che uno può fare per aiutare a raggiungere ehm questo obiettivo. Il primo è il più ovvio è è ottenere buoni voti a scuola perché i college esaminano i voti fino a quattro anni prima dell'applicazione, gli americani almeno. Poi il volontariato è l'aiuto alle persone ehm mostrano buoni valori perché questo è il tipo di persone di di persona che i college vogliono avere nelle loro comunità. Poi un'altra cosa utile è fare sport perché non solo dimostra che sei una persona attiva ma spesso eh dice che hai anche la capacità di lavorare in gruppo e che in alcuni casi hai leadership che è una caratteristica molto desiderata non solo dall'università ma anche nel mondo del lavoro. Poi ehm può anche aiutarti a ottenere borse di studio atletiche che sono offerte da tutti i college. Inoltre eh prendere parte ad attività extracurriculari dimostra che sfrutti tutte le opportunità intorno a te e quello che fai durante le vacanze estive che siano corsi, attività che aiutano la tua comunità, ricerca, insomma quello che ti piace davvero ti motiva. Ehm tutto questo contribuisce per perché dimostra che trasformi il tuo tempo libero in qualcosa di utile e che non lo sprechi. Poi un'altra cosa molto importante è costruire un buon rapporto con i tuoi insegnanti. Tutti i college richiedono lettere di raccomandazione quindi se hai un buon rapporto con loro è più probabile che parlino bene di te. Ehm ora daremo eh dei consigli oltre l'università e quindi sul lavoro o forse degli studi eh fini o il vostro graduate degree. Ehm allora gli Stati Uniti eh in questo sono un po' diversi perché come ha detto Agostino le liberal arts ti fanno studiare ehm quello che volete eh all'inizio però eh sembra ovvio ma dovete studiare ehm la vostra passione e adesso vi spiegherò perché. Anche se il dato varia eh leggermente il 70% dei datori di lavoro non gli importa cosa eh hai studiato. Infatti personalmente io sono interessato forse a lavorare nella finanza e parlando con persone che hanno avuto successo in questo settore oltre a dirmi che sarà molto difficile mi hanno detto che assumono studenti da qualsiasi corso e in generale vanno sul sicuro sulle grandi eh università che sono eh importanti e riconosciute. Ehm eh attenzione che questo cambia se avete in mente cosa vorrete fare per la vostra vita e questo percorso sia molto specifico come eh un dottore, un avvocato, un ingegnere eh quindi questi lavori che hanno bisogno di una conoscenza molto specifica e quindi il corso che decidete eh in questo caso è molto eh importante. E poi andando avanti è molto interessante è come il lavoro sta cambiando perché prima come eh mio padre che ha fatto l'avvocato eh rimani nella stessa compagnia per quasi tutta la vita la tua vita e piano piano sali eh di livello di importanza. Invece ora eh guardando il grafico eh a destra eh di medio un lavoratore eh resta per due anni e mezzo nella nella compagnia specifica prima di cambiare lavoro e questa eh ripete un'altra regione per cui l'America è più adatta per il cosiddetto breadth of learning quindi l'ampiezza di cosa si studia rendendo più eh flessibile di cambiare eh lavoro rispetto a uno studente ehm che ha studiato soltanto una cosa eh specifica come ehm ehm ingegneria chimica. Ehm perché come eh ho già detto molto probabilmente ehm eh il vostro eh lavoro cambierà però è anche ehm difficile da comprendere eh però la verità è che eh c'è la possibilità che molti di voi lavoreranno in un mestiere che per adesso non esiste ehm per esempio eh l'intelligenza artificiale come state eh vedendo eh ha la potenza di rimodellare la società e tutti eh i diversi eh lavori. E infine noi vi consigliamo di fare eh un'esperienza lavorativa e il grafico nella prossima slide ve lo farà capire. E questo grafico eh ci fa vedere la percentuale di laureati che hanno già lavorato per il datore di lavoro e si può vedere in alto che il 76% degli studenti che sono entrati nel mondo della finanza avevano già avuto un'esperienza lavorativa. Questo vi fa capire l'importanza di eh lavorare e quindi adesso che probabilmente sarete in una scuola italiana che vi dà tre mesi di vacanza durante l'estate almeno cercate anche due o tre settimane di lavoro ehm che potrebbero fare la differenza eh nel nel futuro per il vostro lavoro. Ehm eh un'altra alternativa a quando avete finito l'università invece di andare a lavorare potete continuare eh i vostri studi se questa università vi ha dato una passione che potrebbe succedere e quindi esistono i graduate ehm programs. E poi alcuni di voi potranno pensare di fare un MBA quindi un Master of Business Administration però è molto importante avere un'esperienza lavorativa prima quindi questo si tratta ancora più nel futuro. E infine se siete interessati a continuare o a fare una ricerca scientifica eh per esempio su una nuova batteria o quello che volete fare ehm un PhD farà per voi. E poi come come possiamo aiutare noi? Noi come Boosting Features siamo una fonte gratuita di sopporto per i studenti perché facciamo presentazioni come questa registrate o dal vivo sullo College of Wellness perché offriamo lezioni individuali no? Peer to peer ehm inglese, matematica e scienze aiutando aiutando i studenti a raggiungere il livello richiesto per sostenere per fare gli esami necessari per non entrare in una buona università. Per esempio eh in America il TOEFL che è un esame per mostrare per certificare il livello di inglese. Queste lezioni eh non sono solo con noi ma con i migliori studenti delle migliori scuole che come noi vogliono aiutare altri ragazzi ad entrare nelle migliori università. Quindi adesso eh vi voglio ringraziare tanto per aver ascoltato la nostra presentazione ehm come detto prima se avete domande adesso non possiamo rispondere a tutto ehm ehm e sì ehm finito avete finito quindi grazie. Grazie mille di questa presentazione molto interessante. Io ho già una domanda. Certo. Io ho già una domanda poi vediamo nel frattempo se qualcuno ha scritto nella chat però insomma Federico posso lanciarmi io perché sono curiosissima. Quindi quanto tempo prima bisogna cominciare a organizzarsi per eh per chi decide di per esempio iscriversi a un'università all'estero? Quanto tempo prima si deve muovere? Allora ehm le università americane richiedono il maggior tempo e in generale bisogna cominciare nel penultimo anno ehm di scuola perché eh i vari ehm essays che bisogna scrivere escono il primo agosto però comunque bisogna fare delle ricerche ehm di ehm che ho già parlato sui vari siti canali YouTube su dove volete studiare ehm e quindi quindi eh escono il primo agosto ehm e le scadenze ehm sono o a novembre o a dicembre questo dipende dalla early action che si fa prima o ehm in generale ehm sì eh però ehm è anche molto importante vedere se se di infatti avete bisogno di aiuti finanziari bisogna iniziare ancora prima ehm forse non so a settembre del penultimo anno per vedere questi aiuti come il CSS profile e eh la domanda si fa ancora prima. Poi se posso aggiungere una cosa ehm mi sa che Ale qua sta parlando più sulla sull'applicazione no sulla domanda in sé però ehm direi che è è molto utile iniziare a prepararsi a preparare il tuo curriculum eh da prima no da anche dal secondo a terza liceo devi iniziare a lavorare su cosa puoi presentare te all'università perché per esempio puoi fare esperienze di puoi fare volontariato o puoi iniziare a fare questi sport tutte tutte le cose che vi ho detto prima ti conviene iniziare a iniziare a farle prima così poi ehm negli ultimi anni che ve lo dico di esperienza adesso sono i più stressanti adesso perché noi stiamo lavorando tutto sull'applicazione ehm dove hai tantissime cose da fare forse non avrai così tanto tempo per fare queste esperienze che poi sono molto necessarie perché in America per esempio ehm i voti contano tantissimo ovviamente però ehm quello che fai fuori scuola conta uguale ai voti quindi è molto importante e trovare il tempo di fare questo che forse si trova più facilmente prima è molto importante quindi se riesci a pianificare e mh a farlo prima aiuta tantissimo quindi bisogna prima magari avere un'idea di quello che si vuole fare all'università però prima ancora di scriversi di fare l'applicazione bisogna trovare un finanziamento una borsa di studio insomma ehm in modo di poter avere la possibilità economica insomma di di frequentarla quindi bisogna cercare prima diciamo così eh il contributo economico a sostegno di questa esperienza giusto? Sì esatto e prima prima si inizia meglio è non è mai troppo presto e se avete qualsiasi domanda possiamo fare delle ehm video lezioni sui consigli perché ehm Agostino ed io possiamo dire che ormai abbiamo già molta esperienza abbiamo quasi finito la nostra eh domanda alle università Ho anch'io una domanda Laura posso? Certo! Ero curioso allora so che per esempio credo per le università americane si possono fare anche dei dei test che se non sbaglio si chiamano le SIT che aiutano a se ho capito bene a standardizzare un po' cioè sono dei test che ti dà un punteggio e e dovrebbe aiutarti nelle application non ho capito se è una cosa obbligatoria questa oppure ti può aiutare avere un punteggio alto per avere un un admission più probabilità ecco volevo capire questa cosa delle SIT se è obbligatoria o non obbligatoria utile come funziona? Quindi ehm è stato obbligatorio per tantissimi anni eh fino al covid era era obbligatoria dappertutto perché è un test standardized la S della SIT viene da standardized che per tutte le università in America ehm lo devi fare è su 1600 e con questo viene paragonato a tutti a tutti i studenti nel mondo ed è uno degli esami più importanti per in America perché anche se per esempio noi eh a scuola facciamo un diploma chiamato l'IB però ehm quello noi presentiamo l'IB i nostri voti dell'IB però dobbiamo anche fare l'SIT fuori scuola e presentare anche questo però ehm dopo il covid eh con le limitazioni che forse alcuni studenti non potevano fare l'SIT è diventato che è successo che intanto l'università non era più obbligatorio e poi anche se adesso siamo già in uscita al covid è rimasto così quindi ehm tanto università ufficialmente dicono che non devi fare l'SIT però ehm il mio consiglio è che ehm se tu il mio consiglio è di provare l'SIT e vedere come va l'esame perché se tu sei uno che che sai fare gli esami bene forse è una è un'opportunità per mostrare che sei bravo che per prendere un buon voto e presentarlo quindi per esempio anche se non è obbligatorio io lo sto facendo l'SIT adesso per fare l'applicazione in America e anche se dicono che non è obbligatorio può aiutare e sì di nuovo adesso in America è ancora in carta però l'SIT adesso è digitale per esempio in Europa e nei paesi internazionali quindi di nuovo una struttura che è cambiata però no direi per rispondere alla tua domanda è opzionale però ehm si può fare aiuta ok si può online no? si può fare online come mi dicevi è un test che si fa è un test scritto e poi c'è anche un orale no? no 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 quindi il test è a due parti matematica e inglese e anche se adesso è digitale tu devi sempre andare a un posto da tua college board e lì vai col tuo computer e ti mettono in lockdown mode il computer dove non puoi aprire altre cose e lo fai là però solo inglese e matematica tutti in un esame che adesso dura circa d'ora e mezza e questo più o meno è la struttura poi ovviamente se volete allenarvi per questo esame online sul sito del college board trovate tutte le risorse che che potete usare per allenarvi no? per studiare per questo esame e sì più o meno quello grazie e poi ritornando a Boosting Futures che abbiamo fondato offriamo anche delle lezioni su un po' di consigli su come studiare l'STI su come rispondere alle domande e vogliamo sempre dire che queste lezioni sono totalmente gratuite noi lo facciamo per aiutare a far riscoprire quanto le università all'estero siano pazzesche e infine vorrei dire che si studia all'estero guadagno un'esperienza pazzesca che secondo noi non si può trovare in Italia però si ritorna a studiare in Italia e almeno per Agostino e Dio questi sono i nostri piani quindi se uno di noi insomma uno dei nostri ragazzi avesse voglia insomma di intraprendere questa questa avventura vi può contattare via mail su attraverso Instagram eccetera insomma voi vi rendete disponibili a dare una mano a secondo insomma del percorso anche solo anche orientarsi perché magari uno ha tante idee però non le ha molto chiare no in Italia magari è più faticoso insomma capire bene come che strada prendere da qua insomma certo noi all'inizio di fare questa domanda all'università anche noi non avevamo idea dove iniziare e poi nelle scuole dove siamo adesso ci sono dei counselor che ti aiutano quindi ci hanno fatto ci hanno detto cosa ricercare dove compilare e noi capiamo che questo è difficile e sì noi vogliamo aiutare e dare consigli a chi vuole provare perché i counselor sono pagamento praticamente giusto? i counselor sono pagamento invece voi fate un servizio simile però gratuitamente questo è molto bello da parte vostra complimenti sì perché non solo con quello delle counselor perché noi tutto quello che sentiamo poi lo rimandiamo agli altri gli altri studenti può essere dalle counselor per questo dell'università o per esempio da tutors dell'SAT perché come ho detto prima non siamo solo noi siamo tantissimi bravi studenti che anche loro forse si preparano per l'SAT come ho detto Federico quindi loro forse hanno tutor personale e tutto quello che il tutor dice a loro poi loro vanno nella lezione e lo rispiegano ad un altro ragazzo quindi con questo poi ovviamente tutto gratis costo zero quindi tutto per di nuovo aiutare a rimuovere questi ostacoli finanziari perché forse sembrano di bloccare l'opportunità dello studio all'estero bravi sì è tutto molto interessante davvero ok grazie vediamo se ci sono delle domande in chat li abbiamo spaventati tutti quindi in Italia avete già fatto delle presentazioni di questo tipo diceva Federico sì nelle scuole più che altro sì abbiamo abbiamo una che stiamo per fare adesso Milano in pochissimo tempo e poi stiamo benificando anche un altro Milano poi stiamo lavorando anche in Argentina per esempio col comune di di Buenos Aires la capitale per aiutare le scuole pubbliche nelle scuole statali della città sì questo è qualcosa molto nuovo diciamo che siamo entrati in azione ad agosto dell'anno scorso però ci piace pensare che ogni presentazione miglioriamo e riusciamo a passare più informazione quindi no no sì un po' un po' l'abbiamo quanti ragazzi siete quanti ragazzi siete oltre a voi due chi c'è anche con voi ci sono altri ragazzi insieme che vi danno una mano sì quindi la parte universitaria la gestiamo più noi due almeno per ora perché preferiamo almeno avere un livello più di controllo noi adesso perché intanto abbiamo il tempo per gestirlo però poi la parte del tutoring e le peer to peer sessions queste abbiamo una rete al momento di tipo 20 studenti 20 tutori poi da scuole per esempio la mia scuola a Roma la scuola di Alessandro vicino a Londra anche una scuola in Argentina che conosco è molto buona sì quindi tutori per esempio che forse se stiamo aiutando uno studente argentino forse lì mettiamo un tutore che non solo aiuta con l'inglese però forse uno che sa anche lo spagnolo così se ci sono dubbi possono comunicare beh nel caso d'Italia è più facile però sempre uno che parli italiano così questa rete di tutori che abbiamo ci permette di personalizzare più queste sessioni per aiutare quello che chiamano il beneficiario ottimo interessante per dire che tu stai già pensando per i tuoi figli mi immagino sì sì c'è ancora qualche annetto però Alessandro mi ha detto che mi devo anticipare quindi mi sa anche se a cinque anni cominciamo sì assolutamente sì 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 c'è un po' quest'ansia praticamente allora io ci tenevo che insomma seguissero questo webinar soprattutto i ragazzi di quarta superiore ma forse anche quelli di terza praticamente cioè bisogna cominciare già forse in terza se non anche in seconda superiore cioè bisognerebbe già avere un po' le idee chiare ecco o perlomeno cominciare a farsene già in seconda superiore seconda terza sì esatto alle università piace molto che hai una passione che hai aumentato piano piano fin da quando eri piccolo che può essere non so anche dire da dai lego ai droni a un corso fuori scuola che hai fatto alle medie quindi prima hai iniziato meglio è perché capiscono che questo quello che fai è soltanto per l'università se l'hai iniziato a fare un anno prima invece per far capire all'università che tu hai davvero una passione prima la inizi meglio è sì che un po' cozza con il nostro sistema un po' scolastico perché insomma spesso si arriva magari alla fine delle superiori che uno non sa ancora bene come che strada intraprendere però insomma sì ci sta insomma diciamo che non è facilissimo chiarirsi le idee quando si ha ancora 14-15 anni però insomma ci sono già delle passioni magari tracciate insomma in ognuno di noi questo è vero sì e poi come ha detto Alessandro Agostino si può anche cambiare in corso d'opera quindi non è che esatto cioè noi troviamo Agostino ed io abbiamo un interesse in ingegneria però troviamo molto difficile decidere sì voglio fare meccanica però io mi interessa un po' l'economia mi interessa un po' il computer science quindi l'intelligenza artificiale e infatti noi pensiamo che le università americane siano le migliori perché per i primi due anni non devi decidere niente e là puoi provare dei corsi universitari su le varie materie specifiche e alla fine dei due anni devi decidere cosa fare esatto ci fa capire molto di più cosa vuoi fare perché a volte succede che uno studente in Italia ma anche in Inghilterra decide abbastanza velocemente cosa studiare e però si trova nel primo secondo anno gli dice e capisce che questa in realtà non era la propria passione e quindi le università americane crediamo sempre che siano le migliori ci sono altre domande io ho capito che comunque propendete più per le università americane piuttosto che magari quelle inglesi giusto o svizzere insomma ho capito che insomma vi sembrano quelle più diciamo attrattive più che altro il sistema americano ha delle possibilità di aiuto finanziario che sono le migliori al mondo l'aiuto finanziario in America è spettacolare però no no lo studio del Regno Unito per esempio è anche lì anche lì è buonissimo e poi diciamo che io l'ho fatta l'esperienza la la sta facendo adesso forse anche per variare queste queste perspettive queste culture diverse forse per noi adesso c'è entusiasmo all'America quindi abbiamo ricercato tantissimo e quindi tutto quello che abbiamo imparato lo volevamo rimandare quindi forse anche per quello un po' più dettagliato sull'America però no in generale la differenza più grande tra l'America e il Regno Unito sono le possibilità di aiuto finanziario però i benefici di studiare all'estero si hanno ovunque io non so parlare ben francese però si può pure studiare in Francia in Spagna Germania Svizzera ovunque il nostro consiglio da prendere alla fine di questa presentazione è lasciare la vostra casa e provare a studiare in un altro paese che vi apre vi apre la mente assolutamente però come dicevi tu prima Alessandro poi dopo magari si torna in Italia e si fa e si dà e si valorizza insomma il nostro paese insomma vabbè adesso nel caso Degostino forse lui si sente più argentino visto che è nato e cresciuto lì e per me qual è l'esperienza all'estero giusto giusto è vero sei tu che sei all'estero in questo momento Agostino allora in generale noi parlavamo dell'importanza di studiare all'estero abbiamo parlato di tutti i benefici che si hanno dopo le nostre due esperienze abbiamo parlato dei enormi aiuti finanziari che ci che ci sono che fanno vedere che vi vogliono fare vi vogliono sì portarvi in queste università in università pazzesche e quindi i problemi economici si possono risolvere facilmente bisogna essere soltanto veloci e poi l'altra parte della nostra non profit è le lezioni che offriamo e sono consigli su quasi tutto dalle nostre esperienze ma anche conversazioni in inglese aiuti in matematica e scienze perché alle università bisogna dare dei certificati che sai parlare bene l'inglese che puoi studiare l'APER dai 4 anni perché ovviamente la nostra prima lingua non è l'inglese e però comunque per andare nello specifico cioè ci sarà la registrazione online no Laura? sì sì assolutamente faccio un riepilogo quando abbiamo finito con le domande mi sembra che ci sia Anna anche che voleva fare una domanda sì buonasera allora no io essendo anche rappresentante di istituto volevo fare una domanda da parte anche cioè che mi è stata posta anche da tanti altri ragazzi di quinta perché anche io sono in quinta e allora moltissimi ragazzi hanno deciso quest'anno la facoltà da fare oppure altri sono ancora indecisi e alcuni che hanno già scelto la facoltà vorrebbero andare a studiare all'estero voi sapete se essendo così in ritardo perché effettivamente voi avete detto che bisogna già muoversi dalla terza e qua si sta parlando di quinta liceo ad aprile quindi è tardi sapete se ci sono eventualmente università che accettano non lo so delle richieste di borse di studio così all'ultimo o o comunque secondo voi magari ci conviene prenderci un anno fare la la richiesta in quest'anno e poi aspettare l'anno prossimo cioè pensate sia troppo tardi beh allora non è mai troppo tardi allora so che ci sono alcune università che se fate vedere che siete dei bravi studenti interessati vi accettano sicuramente non saranno le migliori però ci sono così tante università che comunque si può provare in questo caso lo diciamo non siamo dei veri esperti quindi non sappiamo bene quali sono le possibilità e però ovviamente si può fare anche molti studenti nella mia scuola lo fanno un gap year quando non è un anno dove non si fa niente ma va è un anno dove vai non so in Africa a fare volontariato a fare un'esperienza lavorativa che potrebbe anche aiutare a essere presi accettati nelle università e sì se la vostra opzione potrebbe essere fare un gap year si può comunque essere accettati in questa università io ho amici che non hanno molto da parlare nelle università e quindi quest'anno sabbatico lo fanno però stanno già preparando dove devo andare se vuoi ti mando dei consigli dopo in privato però so che vanno in delle città abbastanza povere per aiutare e da là puoi spiegare come ti ha cambiato la mentalità poi puoi far vedere che hai avuto un'esperienza lavorativa per far capire far vedere all'università che davvero questa è la tua passione non so cosa vuoi studiare però ovviamente bisogna chiedere ai genitori se vi lasciano fare un anno sabbatico però lo consigliamo e poi vorrei prendersi questo anno non vuol dire che poi non puoi entrare alle migliori io ho un amico per esempio che è entrato a Harvard però ha fatto si è preso questo anno sabbatico anche se tanti come ha detto Ale vanno a fare per esempio queste cose in volontariato lui voleva fare il biologo marino quindi voleva studiare biologia all'università lui quello che ha fatto è un anno dove esplorava tutti i posti diversi nel mondo e questo tutto l'ha messo nell'applicazione perché le università di nuovo tornando a quello che dicevamo prima vedono che hai una passione vedono che usi il tuo tempo libero e lo fai diventare qualcosa utile basta che non che usi questo anno per qualcosa che aiuti e non cambia niente anzi può aiutare anche allora secondo me è un'idea veramente fantastica primo perché Alessandro e Agostino sono due ragazzi molto intraprendenti poi si mettono a disposizione per gli altri che non è che capiti tutti i giorni e poi secondo me questa vostra piattaforma vi sta facendo curriculum cioè vi servirà anche per presentarvi e candidarvi all'università nel senso che state comunque dedicando del tempo agli altri e volete essere di aiuto agli altri non tutti hanno la possibilità di avere grandi finanziamenti o disponibilità economiche a livello familiare per potersi permettere di studiare in università prestigiose senza contributi sostegni di qualsiasi tipo e quindi sì però insomma è un po' il sogno di tanti ragazzi quello di poter studiare all'università proprio insomma per come dite voi giustamente aprirsi al mondo cioè aprire la mente no cioè venire a contatto con altre culture con altre mentalità confrontarsi con chi è diverso da noi che poi alla fine non è così diverso come immaginavamo magari questa è la cosa è la cosa più bella interessante anche sul lavoro lo vedi subito quando uno ha avuto esperienze all'estero con altre comunità altre società eccetera è una cosa che è un patrimonio inestimabile insomma preziosissimo che ci si porta dietro e tra l'altro volevo dire per chi si è collegato dopo perché ho fatto la presentazione prima del ciclo di questi quattro incontri organizzati dall'informa giovani il secondo e terzo incontro sono curati dall'associazione scambi europei che proprio ci darà ci presenterà tutta una serie di opportunità per studiare o fare esperienze di tirocini o di lavoro o di volontariato all'estero già da quest'estate o anche comunque per il prossimo anno quindi scambi europei che è un'associazione molto attiva in questo in questo ambito e che cura ogni due settimane uno sportello gratuito sulla mobilità internazionale per ragazzi under 35 insomma che vengono all'informa giovani basta insomma mandare una mail fissare l'appuntamento scambi europei dicevo è proprio competente in questo ambito e quindi segnala opportunità anche spesso gratuite dove magari serve solo un piccolo contributo per partire ma sono tutte opportunità che un ragazzo può cogliere proprio per fare esperienze di qualsiasi tipo all'estero quindi direi che tornano assolutamente a vantaggio anche di questa piattaforma molto interessante è un ciclo che abbiamo proprio pensato per dare una mano ai ragazzi che vogliono fare esperienze di questo tipo quindi partendo da Bustin Future fino ai due incontri di maggio in presenza questi che però registreremo quindi per chi non potrà venire a Bologna li potrà trovare sempre su flygiovani il nostro portale flygiovani.it e poi ci sarà l'ultimo incontro invece per chi invece è all'estero e vuole venire a vivere a lavorare a studiare a Bologna e in Italia Romagna vediamo se c'è ancora qualche domanda se no vi diamo la buonanotte anzi vi ringraziamo prima perché siete stati veramente interessanti nella vostra esposizione ci sono altre domande Federico mi sembra di no poi se qualcuno ha bisogno c'è la mail vedo sono a disposizione se volete anche informazioni di altro tipo insomma comunque di questo incontro e dei prossimi potete scrivere anche informagiovani chiocciolacomune.bologna.it io ringrazio sicuramente le mie colleghe che sono qui insomma alla regia che sono Serena Laura Novelle insomma le colleghe dell'informagiovani Bianca ecco brava Serena che hai già messo tutto ringrazio Federico che è sempre così prezioso per noi insomma un ottimo collaboratore ormai insomma fa parte dello staff dell'informagiovani ringrazio moltissimo Agostino Alessandro quindi adesso sistemeremo le slide oppure la registrazione quindi la troverete disponibile su Fly Giovani e sui nostri social e io vi auguro buon proseguimento di serata